Dai un'occhiata Voi cosa mangiate? Primo? Secondo? Niente? Non fate pasto? Non fate pasto No, io i primi non ho preso La sera c'è sicuramente Guarda che ho visto La pasta è sicuramente Bene Dai, dai C'è un po' di piante E' 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 un po' di piante Dostante c'est meglio Maro Cosa Ma'ig Ah che di sì Giulia Grazie a tutti. Grazie a tutti.